Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlare di una teoria che però sta diventando sempre più concreta e attuale in questi giorni riguardo al futuro del sistema monetario internazionale, in particolare l'ipotesi che l'oro torni ad avere un ruolo centrale come di fatto valuta di scambio internazionale e di riserva internazionale, un po' come era prima del 1971 quando con il sistema di Bretton Woods c'era un cambio fisso tra dollaro e oro, in particolare un'oncia d'oro valeva intorno ai 35 dollari e poi tutte le valute mondiali erano agganciate al dollaro americano. Quindi indirettamente tutte le valute del mondo erano legate all'oro come valore e mentre comunemente si utilizzava carta moneta o comunque transazioni elettroniche, le prime che iniziavano, ma insomma non è che si usava l'oro come moneta quotidianamente, però di fatto a livello di scambi internazionali tra paesi sì, o meglio in teoria qualunque paese poteva chiedere agli Stati Uniti di convertire i dollari in oro e a un certo punto dopo che in particolare negli anni 60 gli Stati Uniti cominciarono a spendere molto sia creando nuovi programmi di spesa a livello, avevamo visto insomma diciamo di assistenza sociale, di medico eccetera, sia anche tutta una serie di spese anche militari, la guerra del Vietnam, la corsa allo spazio eccetera, a un certo punto in realtà avevano stampato una quantità enorme di dollari e temendo forse che vi fossero più dollari dell'oro effettivamente detenuto, sempre più paesi avevano cominciato a chiedere la conversione, quindi il livello di oro dei forzieri crollava e nel 1971 il presidente americano Nixon sostanzialmente diciamo dichiarò una sorta di default, seppure in modo mascherato dicendo che temporaneamente veniva sospesa questa conversione perché comunque diciamo l'economia degli Stati Uniti che era la più forte del mondo indubbiamente, diciamo è per evitare appunto speculazioni, attacchi eccetera, dice sospendiamo temporaneamente questo livello e poi è rimasto temporaneamente da più di 50 anni, in realtà non l'hanno mai ripristinato e si è passato a un livello di un sistema di scambio di appunto di valute, di cambi tra monete di diversi paesi che sono del sistema cosiddetto fiat currencies, cioè monete fiat, monete create dal nulla, quindi che possono essere create in quantità illimitata teoricamente dalle banche centrali e che hanno diciamo come garanzia implicita soltanto l'economia stessa del paese dove comunque sono valute con corso legale, quindi possono essere scambiate per beni e servizi sicuramente in quel paese e in generale da chiunque nel mondo le accetti e quindi nonostante tecnicamente come raccontava anche Reidalio gli Stati Uniti avevano di fatto fatto default nel senso rispetto all'impegno, cioè avevano dichiarato di non poter più rispettare l'impegno preso di convertire i dollari in oro, di fatto non è che c'è stato un crollo dell'oro oppure un collasso del sistema, scusate un crollo del dollaro oppure un collasso del sistema monetario internazionale, anzi lui notava come la borsa era esplosa perché in realtà equivaleva a una sorta di svalutazione della moneta che quindi aveva dei lati positivi, infatti se il sistema diciamo di gold standard ha il vantaggio di mantenere i cambi fissi, quindi diciamo dare una certa prevedibilità, facilità anche negli scambi internazionali da questo punto di vista, universalità dello strumento in tutto il mondo, uno strumento tra l'altro l'oro che anche grazie alle sue caratteristiche fisiche diciamo da millenni è considerato monete dai popoli più diversi, però diciamo questo sistema aveva il problema che appunto la quantità di moneta nel sistema dipendeva dall'oro detenuto e quindi non era possibile fare tutta una serie di politiche monetarie legate così al ridurre la quantità di moneta o aumentarla secondo le esigenze economiche, quindi programmi di stimolo, dell'economia, insomma creare la quantità di moneta in base alle esigenze dell'economia, infatti non è un caso che prima del corsetto New Deal, Roosevelt tra le prime cose che fece fu proprio quello di sequestrare, diciamo obbligare gli americani a consegnare, farsi pagare diciamo l'oro che detenevano in monete lingotti in cambio di dollari, però a quel punto una volta che non avevano più oro svalutò il rapporto di cambio dollaro e oro in maniera tale sostanzialmente di poter aumentare enormemente la quantità di dollari che servivano appunto per tutti quei programmi di spesa, quindi è sempre stato così, quindi diciamo il sistema di monete fiat ha dei vantaggi rispetto a quello basato sull'oro e viceversa degli svantaggi. Diciamo che negli ultimi cinquant'anni, dagli ultimi cinquant'anni esiste il sistema delle monete fiat appunto fatto di cambi in continuo mutamento tra le varie valute. Però diciamo alcuni analisti stanno ipotizzando un possibile ritorno della centralità dell'oro nel sistema monetario internazionale, in particolare ciò sarebbe dovuto alle materie prime, infatti diciamo le materie prime hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nel sistema monetario internazionale, in particolare appunto nel 1971 quando ci fu a un certo punto il crollo, diciamo il default rispetto all'impegno di convertire i dollari in oro, non è che il dollaro è crollato così nel mondo improvvisamente, sì perché aveva diciamo dietro un'economia effettivamente fortissima, un livello anche militare di potere geopolitico, di sviluppo eccetera, quindi tutta una serie di fattori che facevano sì che comunque gli Stati Uniti erano importanti, quindi quei dollari non erano carta straccia, potevano essere utilizzati all'interno degli Stati Uniti e di fatto in tutto il mondo perché comunque rispetto alle altre valute mantengono comunque hanno dietro uno Stato più forte di molti altri, non è un caso infatti che anche oggi avevamo visto per esempio anche pochi giorni fa, nonostante gli Stati Uniti sono straindebitati, hanno aumentato di moltissimo il loro rapporto debito-pil con tutti i programmi di stimolo pandemici, hanno tutta una serie di difficoltà ma nonostante questo avevamo visto che appena sono scoppiate le tensioni in Ucraina, subito l'euro soprattutto ma anche altre monete si sono svalutate rispetto al dollaro, comunque è considerato la riserva di rifugio, la moneta di rifugio e una cosa analoga era successa proprio allo scoppio della crisi pandemica, comunque il dollaro si era molto apprezzato e così anche in altri casi, addirittura quando c'è stata la crisi di mutui subprime, nonostante il suo epicentro erano proprio gli Stati Uniti, ma di fatto tutti si rifugiavano appunto nel dollaro comunque, nei titoli di Stato americani, nello Stato americano anche nonostante i fallimenti, tutti i problemi economici che magari facciano crollare la borsa ma comunque il dollaro è percepito ancora oggi come la migliore delle valute fiat, nel senso che comunque tra tutte è la meno peggio per il mercato almeno, quindi rispetto a uno yen, rispetto persino a volte al franco svizzero che comunque è considerato un bene rifugio ma chiaramente comunque lo Stato dietro che ha è piccolo, quindi comunque complessivamente ha mantenuto questa centralità. Ma uno dei motivi per cui anche appunto nel 1971 il dollaro non è che è crollato nonostante aveva formalmente perso totalmente il suo significato di moneta garantita da oro è stato anche perché i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita ma anche altri, di fatto continuavano a pretendere per il pagamento del petrolio in generale per tutta una serie di materie prime anche altri paesi dollari, quindi comunque come moneta di commercio internazionale il dollaro è rimasto centrale nel mondo e questa è anche una delle ragioni appunto probabilmente per cui ha mantenuto con gli alti e bassi ovviamente il suo valore e la sua importanza soprattutto anche come moneta di riserva internazionale a quel punto, non era solo di commercio internazionale ma anche di riserva internazionale, quindi immaginate non so l'Italia che comprava dall'Arabia il petrolio doveva farlo in dollari americani e questa centralità appunto il cosiddetto di petrodollari insomma soprattutto nei film di qualche anno fa si sentiva questo termine insomma però di fatto hanno avuto un ruolo centrale, questo per dire come le materie prime che poi sono la ricchezza reale in un certo senso hanno un aspetto fondamentale anche nel sistema monetario insomma e quindi i teorici di questa ipotetica diciamo rivoluzione nel sistema monetario, cioè un ritorno, rivoluzione nel senso che gira qualcosa che gira quindi dall'oro si è passati al sistema Fiat ma si potrebbe ritornare all'oro. Ipotizzano proprio nella crisi di approvvigionamento delle materie prime che stiamo vedendo uno forse il catalizzatore principale di un possibile ritorno dell'oro come valuta mondiale di riserva e di scambi internazionali intesa anche come proprio un sistema di valuta neutrale cioè non legata a nessun paese ma appunto per definizione un qualcosa che non è utilizzabile anche abbiamo visto per esempio le sanzioni alla Russia ma insomma anche sanzioni ad altri paesi per esempio come arma di ricatto politico infatti una delle ragioni per cui diciamo anche all'interno degli Stati Uniti ci sono state molte polemiche per esempio sull'esclusione della Russia allo Swift, avevamo visto anche Jamie Dimon che è a capo della JP Morgan eccetera è il fatto appunto che gli Stati Uniti hanno al momento un ruolo fondamentale, centrale di fornire la valuta di scambio e di riserva internazionale quindi è un privilegio, è qualcosa di importante che però dovrebbe richiedere anche delle responsabilità quindi siccome tutti i paesi del mondo hanno a quel punto diciamo dato fiducia, danno fiducia a quel paese non tanto come paese in sé ma come appunto di dire tu diciamo sei utilizzato come monete come anche sistema di scambi pensiamo al sistema SWIFT per esempio nelle banche internazionale questo sistema diventa universale, tutti lo utilizziamo quindi comincia diciamo a creare problemi se magari per delle tensioni o per punire al di là del merito della questione su cui non entro un paese o un altro tu approfitti di fatto di questo tuo privilegio per impormi delle sanzioni e questo avevamo visto che al di là diciamo della discussione del giusto e dello sbagliato fa sì che poi quei paesi non solo vittime di sanzioni ma anche altri cominciano così a guardarsi intorno a vedere e dicono ma oggi è successo alla Russia magari anche per un motivo che condivido prima è successo magari all'Iran poi è successo però chissà se domani toccherà noi magari per qualche altro motivo e quindi magari stanno sempre più nascendo di sistemi alternativi di abbiamo visto diciamo di carte di credito di sistema bancario di scambio interbancario parallelo SWIFT e avevamo visto anche come anche si cominciano a utilizzare altre valute sempre di più oltre al dollaro americano in parallelo abbiamo visto l'Iran per esempio che appunto anche a causa delle sanzioni tutto la sua contrapposizione con gli Stati Uniti per esempio utilizza l'euro per vendere petrolio ma è appunto notizia di qualche giorno fa era che la stessa Arabia Saudita storico alleato degli Stati Uniti avrebbe diciamo starebbe valutando di vendere appunto il petrolio alla Cina facendosi pagare non più in dollaro americano ma in yuan cinesi quindi ecco comincia diciamo una progressiva diversificazione questo non significa ovviamente che il dollaro abbia così dalla sera alla mattina perso la sua centralità l'abbiamo visto negli ultimi giorni subito come quando comincia così a esserci un po' paura subito ci si rifugia là quindi ancora un ruolo fondamentale però come tanti analisti ed esperti evidenzano abbiamo visto Ridalio insomma ci ha scritto vari libri per esempio appunto il dollaro sta perdendo sempre più questo status in parte forse anche per queste scelte politiche di fatto che fa e ovviamente restano ancora la moneta principale abbiamo visto lo scivolone dell'euro per esempio così da noi tanto sannato ma poi appena c'è un qualcosa subito va giù insomma ecco anche molto più di altre valute come per esempio la sterline inglese di paesi piccoli no come dicono qui quindi così da soli però o franco svizzero che ha sicuramente il suo status ma insomma la svizzera è un paese piccolo in teoria quindi è anche frutto forse di problemi interni dell'Europa però appunto al di là ecco quindi di questo c'è chi ipotizza che il forte aumento del prezzo delle materie prime ma soprattutto il fatto che i Stati Uniti siano molto indebitati avevamo visto il debito pubblico enorme e soprattutto che questo debito pubblico dà un tasso di interesse reale negativo anche questo avevamo visto la cosietta repressione finanziaria cioè rispetto all'inflazione negli Stati Uniti che ha toccato il 7,9% e che comunque è in salita da tempo e che non ci sono per ora segnali che possa invertire la tendenza sono iniziati adesso appena gli aumenti dei tassi di uno 0,25% dopo molti molti mesi che così venivano solo ipotizzati ma comunque appunto i rendimenti di tutti gli Stati americani sono molto molto più bassi rispetto al tasso di inflazione quindi chiaramente al momento chi detiene debito pubblico americano di fatto perde valore reale e viste le proporzioni con cui ciò starebbe avvenendo e il timore che in futuro questo possa peggiorare perché molti analisti dicono non è che gli Stati Uniti possono fare quello che aveva fatto il loro governatore della Federal Reserve Paul Walker nell'ottanta cioè alzare i tassi di interesse anche fino a circa il 20% a quel punto rendevano talmente tanto i titoli americani rispetto anche a un tasso di inflazione che era sostenuto ma molto più basso del 20% per cui a un certo punto come si dice ruppe la schiena usando il termine tradotto all'inflazione e chiaramente diciamo la riportò sotto controllo con tutta una serie di problemi nell'immediato alla loro economia ci furono anche molte proteste e attacchi a Volker e il presidente Carter americano diciamo che l'aveva scelto e l'aveva incaricato di fare questo non fu rieletto probabilmente proprio a causa di questo sacrificò diciamo la sua carriera politica a beneficio poi di Reagan per appunto però frenare questa inflazione e ci riuscirono ma perché perché all'epoca il debito pubblico americano era infinitamente più basso se non ricordo male intorno al 30% del PIL oggi siamo a circa il 130% del PIL con trilioni di dollari quindi anche un'interesse sul debito che aumenta di non so anche al 5, 6, 7% creerebbe dei grossissimi problemi al bilancio pubblico americano e quindi questo è diciamo un po' il dilemma che hanno quindi diciamo la repressione finanziaria si consente di di fatto ridurre il debito pubblico facendolo svalutare in termini reali ma chi ipotizza diciamo questo nuovo cambio mondiale nel sistema finanziario dice appunto ma i paesi che esportano materie prime che sono sempre più scarse perché aumenta la domanda globale di materie prime tutta una serie di paesi Cina, India eccetera e in tanti altri paesi che non immaginiamo dell'Africa, dell'America, di tutta l'Asia quindi chiaramente la domanda di materie prime aumenta diciamo a parità di condizioni in più c'è stata la distruzione delle catene logistiche anche per tutte le misure di contenimento della pandemia, l'incertezza, i paesi aprono, chiudono eccetera insomma poi in Italia abbiamo avuto tra gli esempi forse peggiori in questo proprio dell'incertezza oltre che delle misure e ancora adesso dicono ma vedremo ci riserviamo di richiudere in qualunque momento in base così a come noi riterremo opportuno senza dare nemmeno dei parametri quindi insomma tutto questo per chi pianifica chiaramente crea problemi quindi riduzione dell'offerta di materie prime di tutta una serie di produzioni per questo in più aumento della domanda da tutta una serie di paesi e abbiamo visto le tensioni nell'aumento del prezzo delle materie prime anche ben prima diciamo nel conflitto in Ucraina che ovviamente lo ha ulteriormente peggiorato e quindi alcuni analisti appunto hanno detto ma in questo contesto chi produce materie prime magari esporta molto petrolio anche produce materie prime agricole che comunque per quanto vengono ogni anno rigenerate chiaramente sono finite nel loro ammontare dovrebbero venderle vendere quindi qualcosa di finito di reale che non può essere creato così in quantità illimitata a fronte di una moneta che invece perde sempre più valore in termini reali e potrebbe perderne sempre di più in futuro può essere creata sempre in maggiore quantità e quindi di fatto uno dice perché dovrebbe vendere non so a 10 qualcosa che domani posso rivendere a 20 addirittura 30 appunto perché poi quei 10 vale meno immaginatelo voi magari se vedete che la moneta perde molto valore magari aspettate non so per vendere casa perché temete che magari se vendete non so la vostra villetta per 500 mila euro se non riuscite a trovare nient'altro quei soldi si svalutano e magari tra tre anni potete comprare con 500 mila euro un bilocale per dire qui c'era se mi tenevo con la casa oggi l'avrei venduta per 700 mila euro faccio un esempio quindi lo stessa diciamo stesso ragionamento lo potrebbero fare gli stati e questo rischierebbe di spingere molti paesi produttori di materie prime ossia a estrarre e produrre soltanto e a vendere all'estero quella quantità necessaria così per prendere i dollari che poi servono per le spese correnti per mandare avanti lo stato fare magari gli investimenti necessari ma non è che hanno nessun interesse a estrarre di più vendere di più quindi soddisfare questa fame di materie prime del pianeta e poi così accumulare riserve di dollari come invece magari veniva fatto nei decenni passati per cui si accumulavano queste grosse riserve anche perché l'esempio della russia diciamo e di come hanno nell'ambito delle loro sanzioni non solo escluso le loro banche dello swift eccetera vietato tutta una serie di importazioni russi eccetera ma addirittura hanno congelato tutta una serie di riserve in valuta estera che essa riteneva quindi questo anche un segnale di come alla fine anche quei soldi che uno riceve non sono tante volte nella disponibilità reale del paese quindi ma è un ulteriore disincentivo a così accumulare riserve di valuta estera soprattutto se questa perde sempre più valore e quindi questo potrebbe spingere sempre più paesi a dire no noi utilizziamo una valuta neutrale cioè non legata alla politica monetaria di un singolo paese che appunto legittimamente dal suo punto di vista può dire faccio repressione finanziaria alimento l'inflazione o comunque non la freno in modo che la moneta perde valore tengo i tassi più bassi della svalutazione della moneta e così riduco il mio debito pubblico altrimenti mi diventa insostenibile nei prossimi anni però poi alla fine come si dice il cerino in mano rimane a chi detiene i dollari e quindi noi di fatto impoveriamo il nostro paese così perché abbiamo venduto un qualcosa che è limitato nella sua quantità non può essere replicato immaginate il petrolio e allo stesso tempo invece ricevo qualcosa che perde sempre più valore che loro possono creare in quantità illimitata e quindi questo potrebbe spingere sempre più paesi sia venditori ovviamente di materie prime ma anche magari alcuni compratori come immaginiamo la Cina a dire io ti offro l'oro perché l'oro come le altre materie prime in quantità limitata può essere estratto e prodotto in quantità molto limitate con costi molto alti quindi non è che insomma il prezzo diciamo tendenzialmente è stabile con tutte le speculazioni del mercato ma insomma la quantità limitata è tutto non a caso da millenni ha utilizzato l'oro anche per questo ha tutta una serie di proprietà fisiche eccetera quindi questo l'oro poteva essere diciamo sempre più un candidato anche perché alcune altre ipotesi avevano magari immaginato di utilizzare invece cosiddetti sdr che è una sorta di valuta creata dal fondo monetario internazionale che è composta appunto da un paniere di altre valute diciamo sdr sta per vi dico la sigla adesso c'è un vuoto comunque diciamo special drawings rights cioè diciamo dei diritti speciali di prelievo insomma ecco c'è comunque diciamo è un paniere di valute adesso vi dico anche com'è composto comunque prevalentemente da dollare americano poi da euro e poi da yuan cinese sterline inglese e yen giapponese diciamo in certe percentuali prima i dollari ovviamente poi un po meno di euro poi quello cinese e poi yen e sterlina comunque quindi diciamo una unità di questi sdr equivalgono appunto a un paniere di beni immaginate un etf adesso banalizzando e c'è chi pensava che questi potevano essere utilizzati magari come riserva di valuta riserva di valore oppure valuta di scambio internazionale però diciamo non hanno avuto particolare successo esistono dall'81 se non ricordo male ma insomma da qualche decennio si vengono utilizzati nell'ambito internazionale per esempio di accordi internazionali per stabilire non so quali importi di pagamenti sanzioni perché diciamo sono abbastanza stabili comunque perché così diciamo ricomprendono più valute sono meno dipendenti da un singolo paese ovviamente il ruolo principale c'era sempre il dollaro però appunto questi non risolverebbero il problema per esempio della del fatto che potrebbero essere congelati nell'ambito di riserve delle banche centrali come appunto è successo alla Russia per esempio quindi invece l'oro comunque si è depositato magari in altre banche centrali infatti la Russia per esempio si è vista bloccare circa la metà congelare dell'oro che deteneva depositato in altre banche centrali però comunque è neutrale ecco quindi diciamo a parte che può essere tenuto in patria ma poi è neutrale e consente appunto di non avere diciamo colore politico non essere soggetto a svalutazione non essere soggetto così a sanzioni nel senso che comunque non è che un paese può decidere di non so congelare l'oro se è detenuto ovviamente da un altro paese dire quell'oro vostro lo blocco magari con dire quel titolo di stato che retenete io non ve li ripago te li congelo lo potrebbero fare quindi appunto è neutrale nel vero senso del termine e inoltre diciamo sì è in quantità limitata ma come le materie prime quindi può essere accumulato più volentieri perché comunque si sa che con tutte le fluttuazioni del mercato ma insomma mantiene il suo valore non può essere inflazionato come con facilità come le valute delle banche centrali insomma si vede la quantità verticale proprio prodotta negli ultimi anni l'oro no ovviamente ha dei limiti di produzione molto molto rigidi quindi questo potrebbe appunto essere chiaramente preferito dai paesi produttori di materie prime ma appunto chi magari ha sentito questa teoria in questo dibattito che ho sentito giustamente dicevano d'accordo i produttori chiaramente hanno tutto l'interesse a utilizzare l'oro invece che ricevere i dollari ma i paesi come l'Europa e soprattutto gli Stati Uniti non lo accetteranno mai insomma soprattutto gli Stati Uniti ti mandano l'esercito perché chiaramente per loro è troppo importante avere una valuta che possono creare dal nulla e con cui possono comprare tutti i beni e i servizi nel mondo che vogliono in teoria ma giustamente dal mio punto di vista chi ha elaborato questa teoria dice sì questo forse poteva essere vero anche vent'anni fa se lo diceva Saddam Hussein se lo diceva Gheddafi per cui chiaramente ma all'epoca i dollari avevano comunque dietro molto meno debito pubblico era un paese che davano comunque i titoli americani tassi di interesse interessanti e quindi erano diciamo i tassi di interesse reali positivi non negativi quindi chi comprava titoli di Stato americani insomma non è che si vedeva perdere il proprio valore nel tempo quindi anche chi accumulava valute estere lo faceva volentieri invece adesso appunto c'è questo enorme debito e il rischio qual è a un certo punto però che se i paesi produttori di materie prime vedono questa situazione decidono di semplicemente di non produrre le materie prime come dicevo per cui vendono solo quel minimo necessario in cambio di dollari per così mandare avanti ma trattengono più possibile le materie prime anche agricole e tutto perché sanno che in futuro potranno venderle a più e quindi aspettano e quindi comunque questo cosa farebbe sì che magari sì uno può dire io ti costringo a non usare l'oro e ti costringo a usare i dollari ma comunque disincentiva la produzione questo alimenta ancora di più l'aumento dei prezzi e quindi incentiva ancora di più a non produrre aspettare per vendere in futuro e soprattutto per i paesi che importano materie prime come gli Stati Uniti e l'Europa diventa sempre più difficile reperire materie prime perché c'è la domanda mondiale che aumenta in più loro ne producono meno quindi tutta l'economia rischia di andare in paralisi come stiamo già vedendo soprattutto in Europa adesso per il conflitto ma ancora stiamo importando gas e petrolio della Russia al di là di tutta la propaganda così le parole di odio le sanzioni ma tutte cose che secondo me servono forse più per così per noi europei che poi alla fine per fare danno ai russi veramente perché comunque non è un mistero che insomma dipendiamo da loro a livello energetico e per tutta una serie di materie prime abbiamo visto anche per esempio i componenti dei concimi e quindi la produzione agricola quindi in realtà diciamo se le materie prime dovessero scarseggiare sempre di più perché semplicemente non ce le vendono non ce le vogliono vendere in cambio di dollari questo rischerebbe di far esplodere la situazione sia qui che negli Stati Uniti è questo che è cambiato rispetto al passato ecco magari chi ipotizza questo dice perché tutto sommato anche gli Stati Uniti e l'Europa alla fine potrebbero ritenere questo nuovo sistema forse il male minore rispetto magari a una scarsità di materie prime tali da paralizzare l'economia rendere a quel punto i debiti pubblici già enormi e privati anche debiti privati insostenibili rallentare l'economia perché ha bisogno di materie prime quindi fa scoppiare questa bolla creare un ipotetico default una distruzione del sistema anche finanziario economico e tutto per cui alla fine forse dicono ma visto che gli Stati Uniti comunque ritengono una riserva d'oro di oltre 8.000 tonnellate anche l'Europa e vari paesi europei ce ne hanno a Germania anche ne ha tantissime persino l'Italia ne ha oltre 2.500 tonnellate un numero enorme tutto sommato anche noi occidentali diciamo abbiamo molto oro magari il dollaro e altre valute verrebbero utilizzate magari in altri ambiti certo perderebbero ovviamente sempre più potere a livello mondiale ma magari un sistema del genere riuscirebbe a far ripartire la catena dell'esportazione di materie prime quindi magari alimentare la produzione qui magari diventa più costoso importare ma comunque in paesi come gli Stati Uniti l'Europa magari a quel punto riparte forse la produzione interna si importa magari meno della Cina insomma sarebbe tutto un riequilibrio poi ovviamente le previsioni sono sempre difficili ma comunque c'è chi ipotizza che potrebbe essere adottato alla fine da tutti perché magari è il male minore quando un sistema diventa insostenibile come fu per esempio per il gold standard a un certo punto per evitare proprio il collasso distruttivo magari si decide di cambiare un po' come la famosa frase del gatto pardo dice cambiare tutto affinché nulla cambi nel senso per mantenere un sistema integro di equilibri magari a un certo punto si cambiano le regole quando le regole precedenti diciamo hanno portato a degli estremi quindi ecco perché non solo i paesi esportatori di materie prime ma anche i paesi importatori secondo questa teoria potrebbero avere un interesse tutto sommato a un sistema del genere perché alla fine certo fa perdere potere al dollaro ma comunque consentirebbe di superare un eventuale blocco proprio nelle esportazioni materie prime quindi la spirale di aumento dei prezzi che comunque alla fine farebbe un effetto simile per cui forse è meglio pagare in oro le materie prime piuttosto che magari poter utilizzare i dollari ma non avere chi ce le vende ecco questo sarebbe la logica però ecco l'ho trovata interessante poi ovviamente sono tutte teorie ripeto c'è quella che ipotizzava l'utilizzo di sdr cioè la valuta del fondo monetario internazionale c'è chi addirittura ipotizzava il bitcoin come possibile valuta riserva mondiale anche lì magari uno lo sente si fa una risata però dopo il salvador anche mi pare so che politico credo della malessia se non ricordo male leggevo oggi così un titolo di giornale vorrebbe dare valore di valuta legale addirittura bitcoin quindi comunque a fronte di paesi che cercano di reprimere quel fenomeno ce ne sono sempre più anche che comunque cercano di abbracciarlo quindi comunque per quanto può sembrare assurdo magari qualche anno fa anche era anche il bitcoin 50 mila euro faceva scoppiare da ridere insomma io mi ricordo insomma ecco persone che avevano previsto che ovviamente venivano dirise per dire poi dopo qui tutto può essere bisogna stare a vedere gli eventi però diciamo per ora in un cambio ipotetico del sistema monetario mondiale il ritorno dell'oro che poi storicamente era la regola non l'eccezione potrebbe essere probabile insomma fatevi sapere cosa ne pensate e anche diciamo teorie alternative eccetera e come sempre vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti